Come si sta ibridando il mondo della musica? Il mondo della musica, come molti altri mondi, è stato fortemente cambiato dall'ingresso delle nuove tecnologie. Se io sono un insegnante di musica, potrei fare dei video promozionali per mostrare la mia abilità e per portare a casa nuovi clienti. Una volta che qualcuno si è accorto della mia competenza, potrebbe diventare un mio allievo o una mia allieva. Ci vediamo periodicamente per le attività che hanno bisogno di interazione fisica, ma potremmo continuare attraverso la rete a trasferire conoscenza e a far crescere le competenze di questa persona. Ma se io sono un aspirante musicista, potrei fare la stessa cosa. Potrei vendere, promuovermi attraverso l'utilizzo dei social network, abbattendo in maniera importante i costi e, ad esempio, almeno in una prima fase, non avendo bisogno di agenti ai quali rivolgermi per poter arrivare al mercato e quindi a chi comprerà poi il mio prodotto.